Musella Fabio ma Teresa non sparare col fucile è un breve ma non so Teresa non sparare col fucile signori ciao ma tu fai sempre un burdele fai sempre un burdele è bello tutto per te sta festa con il mercato tutto per te perciò sono uscita la settimana c'è avvenuto poco come la c'è rompendo poco la scala ma Teresa lo so Teresa lo so Teresa lo so Signor non sia ma sottot ma sottot grazie 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 o Teresa, Teresa, Teresa Ciao Teresa 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 Buongiorno 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 Sotto controllo, stanno sotto il mio controllo. Il mio macio o meglio? Bravo. Sempre, sempre Pasquale, sempre. E' questa bella mega palla che ci fa con la famiglia. Io non so se questa palla che vedete sullo fondo del video che sta facendo ancora, Donnaro Giuliano è di Buonauuscic. In ogni caso, in ogni caso, lasciamo tutti a fatto. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Ma no, ma no. Ma no, ma no, ma no, ma no, no. Ma mi è stato così. Mi devo pensare a prendere il mio padre. Mi devo pensare a prendere il mio padre. Mi lasciamo anche le scuole. però si sta andando un po' sul fresco aspetta, saluti pure noi salutiamo pure Annanducci il medico, il medico di trasporti ma c'è un problema dove noi ci giriamo però si sta andando un po', si sta aggiustando un po' ora mi sembra che si sta un po' aggiustando un po' di venticesto si 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 l'anima d'annola posso immortalare, posso avere l'onore di San Gerardo? certo, certo è un film o è una foto? foto e video in contemporanea quindi puoi andare a ruota libera ma io la foto, sai, come nei giornali su Obama, io non dico la mano il rete trasporti, Nando, il rete trasporti se stanno controllo atteggi a ciò che dite certo, certo, certo stanno tutti sotto controllo ciao 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 Grazie. 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 Tutto a posto? Quattro. Però ora si sembra che sia... Certo. Ora sembra che si stia diciamo... Si sta buttando un po' di venticelli. C'è bisogno di dare il nominativo? No, no. Ah, no, no, no. Per iscriverci quando dobbiamo parlare. Per iscriverci a parlare. Perché ho scritto sì sul... Quando hai fatto il Meta... Perché vengo d'Aversa, allora... No, no, no. Soltanto quando, diciamo, dovremo iscriverci a parlare. Ah, sì. Poi ognuno di noi dovrà parlare... No, no. Non c'è nessun obbligo. Cioè, se hai qualcosa, diciamo, che sei di doverdi. Sì. Ma non abbiamo alcun obbligo. Sì. 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 Grazie a tutti Vincenzo 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 Vincenzo